È un giorno di festa, l'abbiamo atteso tanto a lungo questo giorno, oggi finalmente è arrivato, siamo felicissimi che sia accaduto. Eravamo sicuri di raggiungere questo obiettivo, l'abbiamo dimostrato oggi. Abbio per sé la terza promozione consecutiva, abbiamo detto non c'è due senza tre, poi? La fame di vittoria è indescrivibile, quindi ogni anno ripartiremo sempre con più voglia e più carica. Oggi è stata una giornata indimenticabile. Questa vittoria della squadra, del campionato, tu in particolar modo a chi la dedichi? La dedico alla mia famiglia e la dedico a chi quest'anno ci ha lasciato e non è potuto stare oggi qui a sostenerci. Abbiamo l'inter il campionato, ma cosa credevate? Cioè giocavamo così tanto per giocare? No! No! Ce ne andiamo insieme a Dì! Ce ne andiamo insieme a Dì! Senta insieme a Dì! Senta insieme a Dì! Io ho fatto tante partite nei professionisti, tante in B, ma questo è il campionato più bello in assoluto che ho vinto, che ho giocato da protagonista. Io ci tenevo troppo, troppo a questa maglia, a questi tifosi, alla gente, a tutti. Questo è il campionato più bello in assoluto. Sono veramente felice, felice per aver raggiunto un traguardo così importante, sofferto, perché è stata una vittoria del campionato sofferto sin dall'inizio e credo che è stata oggi l'esplosione di gioia di tutti quanti. E più volte tu hai ripetuto che vincere con la maglia del Gela per te ha un significato più importante. Per quale motivo? Intanto perché è un pubblico meraviglioso e l'abbiamo visto oggi perché in eccellenza veramente c'è un pubblico così importante. Per me era una grande scommessa venire a vincere qui a Gela e non era facile e ci sono riuscito. Quindi per me è un motivo d'orgoglio anche vincerlo da capitano. Voglio dedicare anche questa vittoria a tutti i tifosi niscemesi che oggi erano veramente in tanti. Quindi abbiamo fatto questa unione e credo ci ha portato a questo splendido traguardo storico. Abbiamo fatto una cosa straordinaria insieme, tutti quanti insieme, tra società, giocatori, allenatori, tutti quanti componenti che ci hanno dato una mano a fare questo, quello che abbiamo concluso finora, la vittoria del campionato.